Una ragazza di 27 anni è stata ricoverata all'ospedale di Prato per infezione da meningite di tipo C. La giovane, residente a Prato, si è presentata al Santo Stefano ieri con i tipici sintomi di questa terribile malattia. I sanitari hanno sospettato che si trattasse di sepsi da meningococco e hanno immediatamente sottoposto la paziente ad adeguata terapia. Gli accertamenti clinici hanno poi confermato la diagnosi. Per tutta la giornata il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato la profilassi partendo dai contatti avuti dalla ragazza nelle ultime ore. I primi a essere contattati sono stati i familiari e i parenti più stretti, a seguire amici e conoscenti. La ragazza ha lavorato in una rosticceria del centro fino a domenica 10 gennaio, poi è stata a casa perché cominciava ad accusare i primi malesseri. In mattinata già decine di persone si sono presentate in via Lavarone per ricevere la terapia antibiotica. Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17, l'Asle ha comunicato i luoghi frequentati dalla ragazza negli ultimi giorni e di conseguenza ha lanciato l'appello affinché chi è entrato in contatto con la ragazza si sottoponga a profilassi. La notte fra martedì 5 e mercoledì 6 gennaio la giovane ha frequentato la discoteca Naif in via Traversa Pistoiese a Prato. La notte fra sabato 9 e domenica 10 gennaio era la discoteca Momà in via Lucchesi 84 a Osman Noro. Solo ed esclusivamente per chi ha frequentato questi locali in quelle date è raccomandata la profilassi antibiotica da assumere il prima possibile su indicazione medica. L'invito non riguarda coloro che hanno frequentato i locali in altre date. Inoltre la ragazza martedì 5 gennaio dalle 12 e 54, giovedì 7 gennaio dalle 17 e 04 ha frequentato la palestra Universo in Viale della Repubblica a Prato. Con probabilità la ragazza ha frequentato la palestra Universo anche lunedì 11 gennaio ma sono in corso le verifiche. Nel caso della palestra la profilassi è indicata sempre e solo nei contatti stretti con il caso. Si ricorda che i contatti dei contatti non devono sottoporsi a profilassi antibiotica. Per la profilassi antibiotica gli interessati possono rivolgersi al proprio medico, pediatra di famiglia oppure al servizio di igiene pubblica in via Lavarone a Prato o del proprio comune di residenza a domicilio. Si ricorda che la profilassi dovrà essere eseguita anche se è già stata effettuata la vaccinazione antimeningococcica. Oltre a Prato, oggi in Toscana, si sono verificati altri due casi di meningite di tipo C, uno a Lucca e l'altro ad Arezzo. Dall'inizio dell'anno si sono quindi registrati cinque casi. Nel 2015 sono stati 38, di cui 31 di tipo C. Per domani pomeriggio è convocata in Regione una riunione della Commissione regionale per gli indirizzi, le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive assieme all'Agenzia regionale di Sanità.